Berlusconi non l'aveva mai digerito, l'assegno di mantenimento alla ex moglie. 3 milioni di euro al mese, 100 mila euro al giorno, con Veronica che rinunciava alla vita di Macerio. Lo considerava l'ennesimo schiaffo dei magistrati milanesi, un'altra botta al portafoglio, più o meno come il Lodo Mondadori con 500 milioni di euro a De Benedetti. Senta, questa è una cosa che non sta nel cielo e in terra, no? Allora, sono tre donne, tre giudici donne, femministe e comuniste, le basta? Non lo so, perché io non le conosco, non mi è arrivata notizia che sono donne. Secondo lei è una cosa che sta nella realtà di dover pagare 36 milioni con l'arretrato di 72 milioni? E' nella realtà, secondo lei? Ecco, questi sono i giudici di Milano che mi hanno perseguitato e mi perseguitano dal 94. Così l'estate scorsa l'ex premier ha avviato a Monza una causa di divorzio. A Milano, con Veronica Lario, aveva trattato la separazione consensuale. I giudici Brianzoli hanno praticamente dimezzato l'appannaggio della ex moglie. Berlusconi adesso le deve 1 milione e 400 mila euro al mese, 46 mila euro al giorno. L'ex presidente del Consiglio aveva già provato a ricontrattare con Veronica gli alimenti. Si era parlato anche di un riavvicinamento dopo un incontro a pranzo e di un accordo sulle basi di questa cifra. La cosa non era andata in porto. Gli avvocati avevano smentito ufficialmente e parlato solo di rapporti civili. Ora la nuova svolta. L'ordinanza dei magistrati monzesi è appellabile sempre a Milano. Quindi probabilmente la cherella della separazione fra Silvio e Veronica avrà ancora un seguito. Comincia tutto con la lettera dell'Alario alla Repubblica nel 2007, con le vergini che si offrono al Drago. Un passaggio citato anche dai pubblici ministeri di Milano nella requisitoria del processo Rubibis. Poi nel 2009 c'era stata un'altra missiva di Veronica dopo il caso del compleanno di Noemi Letizia, festeggiato da Berlusconi in un ristorante di Casoria. Veronica aveva scritto di divertimento dell'imperatore e ciarpame senza pudore per le candidature di un gruppo di ragazze alle elezioni europee. Il matrimonio dopo 22 anni ovviamente era saltato. Nel 2010 è scoppiato lo scandalo Bunga Bunga e si è saputo più o meno tutto delle feste di Arcore con le oggettine. L'estate scorsa la condanna per concussione e prostituzione minorile. Veronica intanto è uscita di scena. Berlusconi ha trovato una nuova compagna, Francesca Pascale. Una relazione è passata tra le foto sui settimanali col barboncino Dudu. La Pascale ha imposto la spending review a Palazzo Grazioli e secondo i rumors della politica ha vietato le visite ai falchi tipo Sant'Anché e Bondi, mentre la settimana scorsa da Santoro Michel Bonev ha gettato più di un'ombra sull'autenticità del rapporto e i gusti sessuali di Francesca e si è presa una querela e la richiesta di un risarcimento di 10 milioni. Adesso il Tribunale di Monza assottiglia l'assegno di mantenimento per la ex moglie. Una cosa di prassi, secondo gli avvocati di Berlusconi, per i quali l'appannaggio dato nella causa di separazione normalmente si ritocca al ribasso in sede di divorzio. Berlusconi, davanti ai magistrati di Bari che indagano sul caso Escort, aveva giustificato così i 5.000 euro versati ogni mese a Tarantini. Signori, mi hanno condannato a pagare 3.200.000 euro al mese a mia moglie, cioè 100.000 euro al giorno. 5.000 euro sono 20 minuti di pagamento, 20 minuti a mia moglie. Grazie. Grazie.